ciao benvenuti fanciulli e fanciulle in questo oroscopo per il mese di gennaio 2024 a tal proposito vi ricordo che ho pubblicato ovviamente anche l'oroscopo per l'intero anno 2024 lo trovate sul canale vi lascio anche il link giù nella descrizione di questo video li descriviamo un anno qui ci addentriamo invece nel primo mese del nuovo anno gennaio appunto gennaio che vedrà dei cambiamenti molto importanti poi vedremo faremo un po vedremo il cielo del mese il cielo del mese per gennaio un po in generale e poi andrò a parlare del tuo segno zodiacale nello specifico a tal proposito mi raccomando guardate anche quello per il vostro ascendente perché altrettanto importante forse ancor più ancora ancora più importante del vostro segno solare quindi oroscopo per il segno zodiacale per l'ascendente e per il segno in cui avete la luna di nascita va bene mi raccomando ma almeno il sole e l'ascendente quello sì non si scappa mi raccomando comunque detto questo gennaio 2024 vede un transito fra tutti che una bomba di transito mi viene da dire almeno per come la vedo io ok ed è l'entrata il giorno ora a parte parlare di giorno complotone insomma un po ridicolo comunque a cavallo fra il 21 e il 22 di gennaio plutone fa ufficialmente il suo ingresso nel segno anticonformista liberale per eccellenza dell'acquario cambia un'era cambia un'epoca plutone rimarrà in questo segno zodiacale per 20 anni fino al 2044 quindi tu mi capisci sono transiti che cambiano proprio come stavo dicendo no un periodo la storia diciamo quindi questo è un transito che verrà sentito secondo me hanno già iniziato a sentirlo ovviamente perché il passaggio non avviene così in un secondo plutone non è la luna quindi già se ne saranno accorti i segni dell'acquario stesso sicuramente del capricorno per ovvi motivi perché è un mascigno e se ne va ma lo sentono l'hanno sentito e lo sentiranno in modo molto forte i segni del toro del leone dello scorpione e come stavo dicendo dell'acquario stesso queste po ma sicuro per certi versi per altri versi se ne accorgeranno i segni dell'ariete dei gemelli e del sagittario ok ma lo vedremo ne parleremo detto questo quindi plutone entra nel segno dell'acquario che è un passaggio credetemi forte veramente molto molto importante nettuno continua a camminare in casa sua insomma nel suo segno nel segno dei pesci urano prosegue il suo cammino in toro gennaio lo vedrà camminare al contrario cioè in modo retrogrado ma riprenderà poi a fine mese il moto diretto quindi riprenderà a camminare normalmente saturno continua ancora a camminare nei pesci giove rimarrà nel toro ecco qui cambiamenti importanti allora gennaio vedrà abbiamo detto il plutone che entra in acquario ma poi vedrà una grovigliarsi di pianeti nel segno del capricorno quindi gennaio per il segno del capricorno sarà ecco non solo per lui ma diciamo se ne ricorderà il sole in capricorno quindi tanti auguri a tutti i capricorni presenti di dicembre o di gennaio che essi siano mercurio dal sagittario entra a metà del mese di gennaio entra anche lui nel segno del capricorno venere che cammina in sagittario ma entra anche lei in capricorno marte che è in sagittario entra anche lui in capricorno quindi insomma tu mi capisci capricorno vedrà proprio questo stellium nel suo segno zodiacale ora andremo a vedere cosa significa per te per il tuo segno zodiacale questo un po il cielo del mese di gennaio e credetemi è tanta roba comunque andremo a vedere segno per segno con l'oroscopo con l'astrologia cosa ci dice dopodiché però lo sapete ormai andrò ad interrogare anche le mie carte in modo particolare i miei carocchi e scenderemo un po nei dettagli nei nei particolari una una cosa vi voglio dire io credo che questa entrata di plutone nel segno dell'acquario vedrà per il segno del toro mi viene se non l'ha già sentito è perché sfuma un pianeta come plutone è così lento sfuma mano 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 no quello che è il suo la sua influenza da un segno e poi piano piano entra nell'altro ecco il segno del toro qui potrebbe avvertire questa entrata diciamo più mi viene da pensare sulla carriera quindi sulla carriera sul lavoro ma anche sulla sua immagine pubblica quindi come viene visto diciamo che molto molto potrebbe giocarsi lì in quell'ambiente lì il leone potrebbe dimostrarsi per quello che è nel senso che ci possono essere dei leoni che inizieranno ad apparire per effettivamente come sono non so come spiegarmi meglio quindi magari potrebbero prendere posizioni come dire io sono questo e voglio essere questo non quello che tu vorresti che io fossi e via dicendo quindi un leone molto più che viene fuori che esce in fuori volente o non volente perché ci sta anche che venga trascinato fuori nel senso che potrebbero venire fuori situazioni o cose lati caratteriali mettiamola così che magari lui non avrebbe manco piacere o non aveva magari tutto sto coraggio di esporre non so se mi spiego ma ancora ci fossero essere dei leoni che vedranno dei cambiamenti importanti nelle loro relazioni con gli altri per esempio che siano essi colleghi soci in affari sposi o compagni l'acquario vabbè ce l'avrà proprio lì quindi sicuramente sarà proprio un cambiamento se vuoi anche proprio dentro no interiore per quanto riguarda la l'acquario lo scorpione potrebbe vivere un po non voglio dire un terremoto però ecco un qualcosa anche lui proprio a livello di come ti posso dire ambizioni di raggiungimento di ideali di carriera magari forse proprio si ritroverà a fare un qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare e via dicendo ma entrerò più nello specifico man mano che vediamo i segni zodiacali va bene questo è un po l'introduzione abbiamo visto questo cielo di gennaio che vede i passaggi più sicuramente l'entrata di flusone nell'acquario e praticamente non ti dico tutti ma quasi i pianeti lenti che camminano in sagittario ed entreranno poi tutti nel segno del capricorno quasi a salutare flusone no che ancora fino alla fine del mese in capricorno e poi lo lascerà definitivamente per entrare nel segno dell'acquario come a fargli l'inchino a salutarlo ma lo vedremo andiamo a vedere il tuo segno zodiacale allora bilancia il tuo segno zodiacale va incontro ad un gennaio a 50 50 nel senso che come ti stavo dicendo nell'introduzione abbiamo visto pianeti che dal sagittario quindi pianeti a te amici molto favorevoli molto consoni passa a quello del capricorno che insomma tanto consono non è quindi questo che cosa mi dice cosa significa che prima che dopo ok allora qui si apre un mese di gennaio sicuramente positivo pieno di movimenti più che altro di cambiamenti non escludo qui dei viaggi qui vedo il movimento senz'altro qui molte bilance si muoveranno si sposteranno anche all'estero e quindi viaggi spostamenti anche proprio lontani nel mese di gennaio delle comunicazioni che arrivano da fuori quindi da paesi lontani o da persone lontane e via dicendo quello che vedo un pochino così è principalmente nella seconda parte del mese a dire il vero non è da subito quindi una cosa superabilissima non ti preoccupa bilancia qui un qualcosa può venire può riguardare diciamo tutto ciò che è la casa la famiglia quindi magari ci potremmo sentire soli in famiglia anche se siamo appunto come stavo dicendo in famiglia va bene qui ci può essere magari la freddezza da parte di qualcuno nei nostri confronti o almeno così lo potremmo percepire noi potremmo percepire insomma diciamo non voglio dire questa mancanza d'affetto insomma capiscimi quello che ti voglio dire no ecco diciamo avremmo bisogno magari di un abbraccio di una parola affettuosa in più che non di quelle che effettivamente ci arrivano e ci arriveranno ma non solo qui ci può essere anche un qualcosa un qualche pensiero che potrebbe arrivare dalla dalla nostra casa quindi diciamo che gennaio ci vedrà molto concentrati su questo quindi casa intesa proprio come mura la casa come immobile quindi un qualcosa che ci potrebbe mettere un pochino un pensiero potrebbe arrivare diciamo anche da lì però 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 come stavo dicendo questa entrata di flusone nel segno dell'acquario è l'apoteosi per te è assolutamente bello un transito assolutamente positivo è assolutamente longevo lungo perché ci starà 20 anni quindi se per i prossimi 20 anni cara bilancia tutto ciò che hai avuto in mano io parlo proprio terra terra non si può ragionare così quando si parla d'astrologia lo so però voglio mi capiate allora se negli scorsi anni anni tu hai avuto questo come lo posso chiamare questo bagaglio no questa zavorra pesante sulle spalle di plutone in capricorno adesso è vero il contrario cioè plutone cambia di segno e tu lo sentirai tu lo sentirai entra nel segno a te amico favorevole dell'acquario ora di pianeti lenti tipo plutone non ne parla nessuno ma sono questi che cambiano un'epoa tu mi dirai ma sono pianeti generazionali sì ma toccano i nostri pianeti non sto a fare tante robe di tecniche credetemi in parola è così punto ok quindi bilancia qui il cambiamento di scenario tu lo sentirai tu lo vedrai vuoi andare a vedere adesso però le carte cos'hanno da dire per te vediamo un po' che i miei i miei tarocchi vediamo per il segno della bilancia per il mese di gennaio andiamo a vedere cos'hanno da raccontare facciamo così il mese di gennaio 2024 per la bilancia ok il 3 di denari come prima carta il cavaliere vedi il cavaliere di denari il fante di coppe gennaio 2024 per la bilancia ok le stelle vedi vabbè ne sono volate un sacco in più comunque il 9 di coppe aspetta andiamo qui in su 9 di coppe il 10 di bastoni e la forza ora queste sono carte assolutamente assolutamente belle e positive di che cosa mi parlano mi parlano sicuramente di una soddisfazione personale che tu ti potresti togliere di una vincita o rivincita su qualcuno su qualcosa qui ci può essere un qualcosa che viene chiarito che viene alla luce quindi se pubblichi qualcosa mi viene da pensare pubblicare un libro o tu hai un profilo internet insomma che potrebbe crescere ma anche appunto un successo lavorativo vero e proprio un qualcosa che prende forza e prende proprio importanza ok quindi una crescita a livello proprio di lavoro dei denari che arrivano ok qui delle entrate monetarie molto molto importanti per te ma anche dei momenti positivi favorevole mi viene da pensare con un figlio se tu hai figli ma anche un momento positivo favorevole proprio per l'amore in genere quindi passare dei momenti mi viene da pensare romantici passionali con qualcuno insomma qui bilancia c'è da divertirsi anche perché come stavo dicendo questa venere e non solo questa venere questo marte questo mercurio dal sagittario ti portano almeno per una parte del mese di gennaio ti portano tutto sto ben di dio quindi mi torna tutto quello che sto vedendo i denari naturalmente ma come stavo dicendo qui ci vedo proprio anche una bella 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 bellissima soddisfazione a livello lavorativo quindi se tu lo stai cercando tu lo trovi se tu ce l'hai va a migliorare va a prendere forza ad aumentare ok qui c'è anche un progetto che tu potresti fare con qualcuno nel mese di gennaio voglio dire un'associazione però comunque fare qualcosa di traffico insieme a qualcuno andiamo a vedere bilancia mese di gennaio bilancia gennaio vediamo un po scelgo io quando dico le scelgo io volano allora il giudice ma guarda qui ti viene anche riconosciuto qualche cosa la vedova ti viene riconosciuto qualche cosa bilancia fammi vedere troppo io il gran signore e la matrice fammi vedere ma che strane ste carte o mai mai cioè qui è come se ci fosse una chiusura da una parte la realizzazione dall'altra un po quello vedi e il e il duno un po quello che ci stanno dicendo anche la anche le stelle no con questo passaggio dal sagittario al capricorno di 34 pianeti molto molto importanti ma vediamo gli oracoli dell'amore che cosa ci dicono ti lascio il link di queste carte giù in descrizione vediamo capito bilancia guarda nuova conoscenza guarda sembra fatta apposta quindi sicuramente ci potrebbe essere se questo rapporto arrivato al capolinea se da tanto e non sta andando più se trova ci potrebbe essere la chiusura la fine di un qualcosa e il dirigersi verso un qualche altra cosa di nuovo qui c'è anche proprio il nuovo soldi che arrivano sicuramente se l'ho detto ok soldi che arrivano vediamo segno della bilancia narcisista vedi sa di avere sbagliato guarda qui c'è un qualcuno che vedi si è comportato da narciso insomma in attesa di poterti parlare ok quindi qualcuno desidera parlare insieme a te lasciare andare il bisogno di controllo qui c'è un qualcuno che proprio ti controlla ti sta addosso ti starà addosso vorrei magari tu fossi te bilancia e poi tu me lo farai sapere fare un passo alla volta quindi andare piano piano in una determinata situazione e concorrenza in amore oltre che nel taglio qui c'è denaro in entrata quindi te lo riconfermano ma lo abbiamo lo abbiamo già visto e concorrenza in amore quindi qui c'è un qualcuno che ha come si dice un piede in due scarpe due piedi in una scarpa insomma qualcosa del genere ok sicuramente qualche bilancia che potrebbe decidere di essere arrivata il traguardo con una situazione ma ecco fammi vedere così se non mi ricordo le carte uscite ma qui c'è anche un qualcosa un sogno che si realizza un desiderio un desiderio che si realizza è una coppia coinvolta qui c'è un gran signore e una matrice un uomo e una donna che potrebbero essere genitori potresti essere te l'uomo o te la donna secondo chi tu sei con l'altra persona quello che vedo un viaggio lontano non te lo lea nessuno potrò me lo farà sapere ma lo vedo ma lo vedo il fare un qualcosa insieme a qualcuno quindi un collaborare con qualcuno per un qualcosa di costruttivo di importante soldi che arrivano e una grande soddisfazione un progetto un'idea un ideale un sogno che si realizza nel mese di gennaio quindi ci sono anche tante belle cose salvo poi esserci anche come è normale che sia nella vita ok anche quel puntino nero che può riguardare la famiglia o comunque la casa poi tu ce lo farà sapere giù nei commenti viene a raccontarci poi a gennaio il che tu combini mi raccomando guardati anche l'ascendente perché mitica molto quello che ti sto dicendo qui magari il tuo ascendente ti dice l'esatto contrario quindi poi ce bua fa pazzo ma va guardato anche l'ascendente mi raccomando e ricordati che ho messo l'oroscopo per l'intero anno del 2024 quindi vallo a vedere sul canale se ti interessa appunto mi farai sapere va bene un bacione e io ti aspetto qui bilancia tu lo sai al mio prossimo video ciao ciao